Ultime celebrazioni pasquali a Udine per Monsignor Andrea Bruno Mazzocato prima di lasciare la diocesi al successore Monsignor Riccardo Lamba. Il giovedì santo ha visto Mazzocato presiedere nel Duomo di Udine la sua ultima Messa del Crisma, la celebrazione con cui il clero diocesano si stringe attorno al suo arcivescovo per rinnovare le promesse fatte il giorno dell'ordinazione sacerdotale. Nella Messa Crismale, che è stata accompagnata dalla Cappella musicale della Cattedrale di Udine, il vescovo ha consacrato il crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi, che al termine della celebrazione è stato poi distribuito per il suo utilizzo nelle comunità cristiane. Dopo l'omelia dell'arcivescovo la liturgia è proseguita con il rinnovo delle promesse presbiterali fatte nel giorno della rispettiva ordinazione. Festeggiati anche i giubilei di sacerdozio di numerosi sacerdoti del clero e di alcuni religiosi in servizio nel territorio dell'arci diocesi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.